Sono le 7 di giovedì 18 luglio 2019 e questa è la rassegna stampa Occhio ai giornali di Fano TV, ben ritrovati a tutti voi carissimi telespettatori. Andiamo a vedere subito il santo del giorno, oggi la chiesa cattolica ricorda San Bruno di Segni e il sole è sorto alle 5.42, tramonterà alle 20.47. Il tempo, le previsioni della protezione civile delle Marche, questo è il bollettino per la giornata di oggi, avremo cielo sereno poco nuvoloso per transito di velature, nel pomeriggio aumento della copertura nelle zone alto collinarie montane per nuvole comuniformi, nel pomeriggio possibilità di deboli ed isolati rovesci o temporali nelle zone alto collinari e montane. Le temperature sono senza variazione di rilievo. Nella giornata per, la giornata di venerdì 19, domani cielo sereno e aumento della copertura nel pomeriggio. Durante il pomeriggio avremo rovesci o temporali sparsi nelle zone collinarie montane, più probabili nel comparto montano meridionale. In aumento nei valori minimi le temperature. Sabato, il fine settimana si presenta sereno con aumento della copertura nel pomeriggio, nelle zone montane per nuvole di tipo comuniforme. Avremo anche possibilità di isolati rovesci o temporali, sabato nel comparto montano meridionale. Le temperature sono in lieve aumento. Avremo tempo stabile, soleggiato, anche per l'espansione di un campo anticiclonico. Dapprima per l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre, che dunque porterà bel tempo, e successivamente improbabile evoluzione verso un anticiclone di origine africana, che dunque, come già potrete immaginare, porterà temperature anche elevate. Per quanto riguarda le temperature previste per la giornata di oggi alle ore 14, vi segnaliamo le temperature massime sulle città di San Benedetto, Senigallia, Urbino, con 27 gradi, ma la temperatura più elevata sarà a Dascoli Piceno e a Macerata, che toccheranno i 31 gradi. A Pesaro e Fano sono previsti 27 gradi. E adesso i giornali. Subito il Corriere Adriatico con la prima pagina dell'edizione di Pesaro, appalti, Asur, truccati e corruzione, 10 indagati, il direttore generale Marini finisce nei guai. La finanza a casa del manager sanitario, Maxi Gara da 200 milioni, promessa a Copp Service. A centro pagina invece una pioggia di calcinacci dal ponte che è stato chiuso, quello di via la marca Pesaro. L'assessore Belloni dice riapriremo nel fine settimana, subito lavori tamponi a settembre il cavalcavia, partirà il cantiere del cavalcavia. Questa invece la pagina di Pesaro del resto del carino, anche qui la fotonotizia dell'assessore Enzo Belloni sul posto ieri per constatare di persona il cedimento di questi calcinacci. Vedete qua sotto il ponte è ormai in una situazione che non può più andare avanti in questo senso. Cadono calcinacci ormai e quindi il transito è stato chiuso fino sabato, ma poi inizieranno, come dicevamo, i lavori di ristrutturazione. Andiamo a vedere invece la pagina di Fano del resto del carino. La storia di questo giovane Riccardo Baldini, mi sono svegliato e non camminavo più, aiutatemi a guarire. Questo è il virgolettato che diventa titolo di questa storia che viene raccontata questa mattina sulla pagina di Fano. Cure costose, la colletta online per garantire appunto a questo giovane di curarsi, soprattutto di fare queste sedute riabilitative che sono costose e che quindi hanno bisogno in qualche modo di un aiuto esterno. Ebbene c'è la fidanzata, Valentina Benvenuti, che vedete in questa fotografia, e nel tondo invece la mamma di Riccardo. È un oretta ciancamerla che in tanti fanesi conosceranno perché è stata anche assessore del comune di Fano, oltre ad essere professionista, una commercialista. Lui dice e racconta, non so come sto, non lo so, non è facile, dormivo e quando mi sono svegliato non camminavo più. Ed ora, a distanza di mesi, le mie gambe ancora non si muovono. È un riassunto conciso, costellato di lunghe pause e sospiri. Quello che appunto ci ha fatto ieri sera al telefono Riccardo Baldini, fanese di 25 anni, emigrato in Canada per lavoro. Un dramma sconosciuto persino ai tanti, a tanti suoi amici fanesi, rivelato solo poche ore prima di quella telefonata da sua mamma, oretta ciancamerla, che su Facebook aveva lanciato l'appello per una raccolta fondi a suo favore. Il 20 aprile dice e scrive, la vita di mio figlio Riccardo è cambiata in un batter d'occhio. In sostanza, poi vi lascio all'articolo, nella notte, quando è andato al pronto soccorso, la risonanza magnetica ha rivelato un cavernoma, ovvero una rara malformazione genetica dei vasi del midollo spinale. Questa è la pagina di Fano del resto del Carlino. Poi quella del Corriere Adriatico. Vongole, accordo con la Spagna sulla deroga alla taglia minima. Quelle esportate nel paese iberico dovranno avere la misura regolare di 25 mm. Dunque è stato firmato a Madrid questo accordo tra le associazioni pesca vongole italiane e spagnole per il rinnovo della deroga di tolleranza nella taglia minima per il triennio 2020-2022. In cambio, Madrid, dove era crollato il prezzo, non si opporrà alla proroga dei 22 mm. E poi, sempre dalla pagina di Fano del Corriere, la festa della Cresciamatta, una festa storica che si svolge nel quartiere di Tre Ponti. Compie 35 anni al via alla cooperativa di Tre Ponti, ballo e cucina, con il recupero delle ricette. Ed è l'evento gastronomico sicuramente più longevo che si svolge nel comune di Fano. Ed è giunta alla 35esima edizione. Da domani alle 18 i cuochi della cooperativa inizieranno a sfornare circa 3-4 mila cresce che fungeranno da companate coi piatti di una volta. E poi la pagina 2 di Fano, con la cronaca, il tamponamento a catena con il cantiere che ha creato una coda di veicoli sotto il sole per chilometri. L'incidente è avvenuto sulla superstrada Fano Grosseto intorno alle 13.20. Molti, sicuramente anche dei nostri ascoltatori, saranno stati incolonnati perché lì in quel tratto ci sono tra l'altro i lavori biblici che non fanno a tempo perso o non si capisce come possa essere possibile che una strada, pochi chilometri di strada, uno svincolo, mettetela come vi pare, ma ci vogliano davvero anni e anni e anni. Non è, poi non sono un tecnico per carità, ma credo che sia una cosa folle. L'uscita di Fano chiusa altri due giorni per lavori relativi alle opere compensative della 14, quindi ancora disagi per gli automobilisti, soprattutto quelli che dall'entroterra vogliono dirigersi verso la città di Fano. Scintille dai freni, prende fuoco un carico di fieno, furioso incendio a Cerbara, siamo sempre nelle vicinanze di Fano, distrutto oltre al materiale anche un grosso trattore. Ponte della discordia, ora il Lido insorge, operatori imbuffaliti per la scelta di installare l'attraversamento nel pieno della stagione. Bisogna che si rendano conto che per noi è un problema grave chiudere l'unico parcheggio del Lido in piena stagione balneare, stiamo parlando del parcheggio dell'ex hotel Vittoria, dell'ex hotel Vittoria. Ed è davvero l'unico parcheggio fruibile per chi vuole andare al Lido. I lavori comporteranno anche la chiusura non solo del parcheggio, ma anche di parte di via Simonetti e poi ci sono anche altre chiusure, compreso un pezzo di spiaggia. Per quanto riguarda invece la Fano dei Cesari, l'idea dell'ingresso a pagamento dal prossimo anno c'è, ma riguarderà soltanto l'ingresso alle tribune, cioè coloro che vorranno vedere la Fano dei Cesari seduti comodamente dalle tribune che danno posto a circa 2.000 persone e quindi queste persone probabilmente dal prossimo anno dovranno pagare un biglietto. Lo dice Gino Bartolucci che è il presidente della Proloco, l'associazione che organizza appunto questa grande manifestazione. Polemiche a Fano Sud, sopra luogo dell'assessore Fabiola Tonelli. Tonelli dice la ciclovia adriatica ci darà l'occasione per intervenire, si parla anche di sicurezza, si valuta con la stradale la possibilità di installare due tutor sulla statale 16 adriatica. Schiacciato contro l'albero è grave un agricoltore di 78 anni, aveva fatto marcia indietro con il suo motocoltivatore, rimanendo schiacciato tra il mezzo e il tronco di un albero nei pressi di via Aerone, nella zona Le di Marappesaro, una brutta esperienza che è accaduta alle 9 di ieri mattina ad un pensionato di 78 anni di Pesaro che era andato con la sua moto zappa nell'orto di proprietà della figlia. Il pericolo è sempre di questi mezzi molto vecchi come quello che usava il pensionato e che dunque sono poco sicuri. La prognosi è riservata, si è preso in serata che le condizioni del 78enne erano in leggero miglioramento. Questa è la pagina del resto del Carlino che sotto ospita anche la notizia che è una sentenza, la sentenza che assolve con formula piena Renzo Rovinelli, la stessa procura ha chiesto la sua assoluzione, i giudici hanno accolto questa richiesta, è assolto perché il fatto non sussiste dopo 6 anni vissuti sui carboni ardenti, per Rovinelli è la fine certamente di un incubo, l'altro ieri il Tribunale di Ancona lo ha giudicato innocente con formula piena dall'accusa di concorso in corruzione per la vicenda degli impianti di biogas nelle Marche. Una vicenda che aveva visto la procura d'Orica indagare su scambi di favori, regali e altre presunte irregolarità nelle procedure per regolamentare e autorizzare gli impianti nel periodo tra il 2004 e il 2014. Freni dal trattore surriscaldati, fuoco in collina, parte la fiammata e si estende al rimorchio e al carico di fieno, task force dei pompieri per spegnere l'incendio, è successo ieri pomeriggio nell'azienda agricola dei fratelli Cornacchini sulla sommità di una collina in località Ferriano di Fano, a poca distanza dalla strada per Cerbara e come dicevamo sono arrivati i vigili del fuoco di Pesaro e Fano, danni stimati intorno ai 40 mila euro, ma il fuoco aveva fatto già la sua comparsa in mattinata nella corsia nord del statale 16 Adriatica, siamo a due passi dal mare, tra Fano e Pesaro, quando a un certo punto c'è stato questo incendio di sterpaglie vicino al quartiere di Gimarra. Intorno alle 10 e 15 questo rugo di sterpaglie, forse lanciato da una cicca di sigaretta da una vettura, ha impegnato tra i mezzi dei vigili del fuoco. Camilleri, la morte di Camilleri, ricordo indelebile per chi lo ha incontrato all'Università di Urbino, all'università che gli assegnò nel 2012 la laurea honoris causa. Pivato, ha detto l'ex rettore, la sua fama riportò Urbino al centro della scena culturale. Dunque Andrea Camilleri aveva toccato profondamente l'università nel 2012, la sua presenza aveva segnato l'aula magna del Polo Volponi, affascinando tutti con il suo acume e la sua profondità. E poi storia e dramma della solitudine, un'anziana trovata morta in casa dopo 20 giorni, è un successo ad Ancona, ma questa donna, Rosa Fumelli, 89 anni, vedova, era originaria di Cagli. E poi la storia di Sebastian, che da 18 anni gira il mondo a piedi, si è fermato anche ad Urbani, a questo senza tetto, che ha deciso a un certo punto della sua vita di mollare tutto quanto. Lo hanno incontrato appunto e gli hanno fatto qualche domanda e lui ha risposto. Quando gli chiedono per esempio dove dorme, lui dice spesso nei boschi, con un sacco a pelo. Ogni giorno, pensate, percorre circa una trentina di chilometri a piedi. Parliamo di sanità, parliamo anzi di nuovo ospedale, quello che tanto interessa e suscita sempre anche nei nostri telespettatori. Il nuovo ospedale di Muraglia, quello che servirà alle due città di Fano e Pesaro. Luca Ceriscioli ha mostrato un'ipotesi progettuale del nuovo ospedale di Muraglia realizzata dal Renco. Vedete Luca Ceriscioli con il monitor dove appunto mostra questo rendering, così come diventerà. Nel nuovo ospedale sopravvive intanto solo l'obitorio, è un po' un gioco di parole ma serve per dire che solo l'obitorio, la struttura dell'obitorio e quella di ematologia come edifici resteranno in piedi. Gli altri invece verranno tutti abbattuti. Per costruire questo nuovo ospedale saranno sacrificati quasi tutti gli edifici esistenti. Solo la camera mortuaria appunto e ematologia dovrebbero rimanere in piedi essendo più defilati rispetto all'area in cui il nosocomio sarà poi realizzato. Andiamo sulle altre pagine per la nostra rassegna stampa. Il Corriere Adriatico, questo è il Corriere Adriatico, piovono calcinacci dal ponte, via la marca resterà chiusa almeno fino al giorno 20. Vedete il comandante, i vigili che controllano i calcinacci caduti dal ponte. Non si può passare, non è stata chiusa la statale sopra Adriatico, però insomma questa è stata chiusa. Sul posto anche i vigili del fuoco. Naturalmente si aprirà nel fine settimana, tutti con lo sguardo e con gli occhi lì in su per monitorare bene che cosa fare. Soprattutto cade o non cade, cede o non cede, non è questo credo il caso, però insomma potrebbe peggiorare visto che la situazione di quel ponte è ormai deteriorata da molti anni. Mentre su Largo Tremarteri, in stand by, avanti con il parking alla Baia, sulla rotatoria più discussa ancora non è stata presa una decisione definitiva. È ancora lì, si allarga, si stringe, si allunga, si cerca di evitare che da Pesaro verso Riccione ci siano ancora le code. Poi la storia, o meglio la vicenda delle sigarette, del fumo in spiaggia, in realtà questa mattina il resto del Carlino racconta di quante sono state le persone multate in due anni, cioè da febbraio 2016 fino al novembre 2017 per aver gettato il mozzicone di sigaretta a terra. Ebbene, sono state 67 queste persone multate per le cicche buttate a terra. Sanzioni da 60 euro, tra l'altro non è prevista nemmeno la riduzione, quindi non è ammessa la riduzione, quindi si pagano 60 euro, punto e basta. Tutti hanno pagato. La maggior parte, o meglio 66 persone di questi multati erano uomini, una sola donna che a un certo punto al vigile ha detto beh insomma ci sono problemi ben più gravi di quello di multarmi per aver buttato la cicca di sigarette. Ricordiamo che dal 15 luglio scorso è in vigore appesa l'ordinanza, che tra l'altro è anche molto discusso, del Comune che vieta di fumare lungo la battigia e dentro i 200 metri dalla riva e le multe sono di 50 euro i trasgressori, però capite da soli che un conto è il divieto di fumo, cioè di fumare, accendere la sicurezza di fumare l'altro che invece è regolamentato dalla normativa nazionale ed è quello di buttare le cicche di sigarette, sono due cose ben diverse. Quindi c'è una legge che in realtà esiste dal 2016 che è quella a cui si sovrappone quell'ordinanza del sindaco di Pesaro. Fiera anticipata, gli ambulanti dicono, quelli pesaresi dicono sì, a livello commerciale dicono è la scelta giusta, lo spostamento delle date ha fatto storcere il naso a molti ambulanti, però questa mattina il resto del Carlino dà spazio a coloro che invece sono favorevoli. Il Comune ha spostato al sabato 7 settembre l'inizio della fiera di San Nicola che si conclude il 10 di settembre invece del canonico inizio del 10 e fine il 12. È una decisione che ha scatenato la rivolta di 169 ambulanti su 650, i quali hanno detto che queste nuove date avrebbero causato danni ai loro incassi e quindi chiedono di tornare all'antico. Voce critica invece quella di Davide Colarizzi che dice un giorno in più ci costa a noi ambulanti 100 euro. Gli espositori sono 650 quindi calcolate quanto guadagna così il Comune di Pesaro. Trasporti sanitari, orari e turni rettificati per gonfiare i rimborsi e raggirare l'Asur. È iniziato il processo con 8 imputati coinvolti i responsabili delle cooperative che gestiscono i trasporti, la One Emergenza, la Croce Verde e la Croce Azzurra e in seguito la Solaris. L'azienda Asur invece si è costituita parte civile. Poi c'è l'invito sul Corriere Adriatico del papà di Gael, spero di leggerlo bene, mi perdonerà, che vedete in questa fotografia, il bambino ovviamente essendo minorenne è di spalle per questione di privacy. Sabato venite tutti a festeggiare la festa del mio piccolo eroe che temevo perso, infatti compie sabato prossimo 20 luglio o meglio il compleanno, i sei anni li ha compiuti ieri, però festeggerà sabato 20 luglio alle ore 17 al Sun Beach Green, ai bagni Ciro 33 in Viale Trieste a Pesaro. Perché festeggiano i sei anni di questo bambino? Perché questo bimbo, chi ricorda la storia, era stato portato in Messico dalla mamma e il padre racconta la sua nuova vita pesarese. La mamma lo aveva trattenuto in Messico all'oscuro del genitore che ha mosso mari e monti nel vero senso della parola per ritrovarlo, perché la madre lo aveva tra virgolette insomma nascosto, non si sapeva dove era, per ritrovarlo e riportarlo in Italia. Lui tra l'altro, racconta il papà, ha ripreso perfettamente a parlare l'italiano nel giro di un mese. E poi trema la sanità regionale, travolta da una max inchiesta che mette a ferro e fuoco il sistema di appalti gestito dall'Asur Mar, che ci sono otto indagati, Marini e Badiali, con altri otto. Una raffica di perquisizioni della finanza all'Asur e a casa del direttore generale per acquisire documenti, fatture, telefoni e computer. Nel Mirino, la gara da 200 milioni per le pulizie e altri servizi, coinvolti due vertici del colosso emiliano Coop Service. Raid di ladri invece in un locale, sono stati rubati a Senigallia telefoni e soldi, il bottino è stato subito recuperato dalla polizia, c'è anche una denuncia per ricettazione, è finito nei guai un 25enne di Senigallia, trovato con un telefono e un portafoglio rubati al clip per osteria di mare a Senigallia. Poi un venditore abusivo che fugge e lancia la merce in mare, è accaduto ieri pomeriggio nel corso di un blitz in spiaggia, ha concluso con due irregolari sanzionati e con altrettante multe per complessivi 10 mila euro. E poi la cronaca con un incidente che è accaduto ieri sul lungomare, una 17enne rimasta ferita ieri pomeriggio dopo essere stata tamponata dall'auto di un'amica, l'incidente è avvenuto intorno alle 18 sul lungomare da Vinci al Cianin, a bordo di una moto 125, c'erano appunto questi due 17enni, entrambi di Monte San Vito, il centauro, quello che guidava, è rimasto illeso, mentre l'amica che stava dietro, che trasportava, è caduta ed è rimasta ferita. È stata portata al torrette con l'ambulanza, però è arrivata anche l'elicottero, l'eliambulanza. La pista è ciclabile, siamo a Urbino, una risorsa senza cancellare la ferrovia, dice Andrea Biancani, preoccupato anche di tutto questo trambusto che è successo dopo aver illustrato la sua idea, il suo progetto della ciclovia. Il treno fa un Urbino, dice, assicura Biancani, si potrà ripristinare, quindi state tranquilli, lo dice soprattutto ai nostalgici, a quelli che vogliono di nuovo vedere la littorina, il treno, ritornare e viaggiare sui binari da Fano Urbino e viceversa. Siamo a Monteporzio, Monteporzio che ha problemi di liquidità, ha problemi di soldi. L'ex sindaco dice, il comune dice, in dieci anni ho consolidato il bilancio, Patrignani replica sindacati, la contabilità armonizzata obbligatoria dal 2015. E chiudiamo con il calcio. Perché? Perché ieri alle 18 la Lega Pro ha emanato i tre gironi di Serie C in cui spalmare le 59 squadre. Fano, quindi l'Alma e la Vispesaro sono nel girone più spettacolare, i Biancorossi e Granata sono in campo con molte squadre emiliano-romagnole e tra le avversarie c'è anche il Cesena. C'è questo girone B che è formato da 20 squadre, quindi oltre a Vis e Fano ci sono le altre marchigiane, ovvero la Fermana, la San Benedettese, poi c'è l'Umbra-Gubbio, le squadre emiliano-romagnole, Rimini, Cesena, Ravenna e Emolese, Modena, Reggio Audace, Carpi, Piacenza, poi le Venete, Vicenza e Virtus Ferona, Padova-Azzignano-Chiampo e la Lombarda-Feralpi-Salò, nonché l'Alto-Tesina sul Tirole e la Friuliana-Triestina. Poi per quanto riguarda i calendari, l'appuntamento è per il 25 luglio, quando appunto verranno stilati i calendari del prossimo campionato, mentre il campionato vero e proprio inizierà il 25 di agosto, quando si scenderà in campo per la prima giornata. Noi ci fermiamo qui, la rassegna stampa è finita, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento questa sera con il telegiornale Occhio alla Notizia. Mi raccomando come sempre per le vostre segnalazioni, questo è il numero da segnare sul vostro smartphone. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie a tutti.